sto mangiando la grande brioche devi stare buono i grandi soldi quanti soldi ho scudo a me la campagna io ne avevo 99 ho vinto ho vinto bella sta mappa ma tutti paraculati da niente è strafiga sta mappa non ho sopportito bene ma ho vinto qualcuno i grandi soldi della madonna ma come sta un fail lo fa sa per tre ma chi è venuto tornato da merda si vuola subito si si vuola subito adesso sono andato ahiaia cosa è quello nooo devo invertire i comandi ahiaia la macchinina della menghia dai son nonno che palle sei nonno sono nonno nonno corvo ma decimo mi sono passato persino roti attenzione un'immigliazione ho fatto la curva male male ho banabana male male che figa sta mappa ragazzi sono primo mi annoio stai zitto che è ancora terminato qua davanti mi annoio ragazzi eeeh ma che chi mi ha già detto il mio stai arrivando un drone merda sei deficiente che schifo roti ma porca miseria mi ha detto mi ha detto questo brusia brusia è per forte ma chi ha buttato le le vespe chi è che mi spinge lui e sono andato spitto via ti spacco ma tiro le palle io sui fischietti ma che chi ha spitto ma dai sono sotto sotto ma dai ma lyuk ma basta questo aereo che faccio gli sweep verso l'alto si sta buongiorno vorre cheACE non ci piace aia ahia ahia aia o dai io li odio i livelli in aria bekellissimi corvo non devi rompere le balle aoooooo aooooo quanti pesci palle qui questo spinto che è il fuego tre aia aia ma sti Ma è una mia impressione, vi sto dando cacca un bel po' Polka Troi, dove cazzo sei finito? Ma no, va 5 chilometri avanti Eh vabbè Non so stato io, eh No Moro, non hai l'idea di quanto mi sta annoiando Ti vedo È sempre un'inchiodata tremenda Dovrei No, ti spacco la faccia adesso Oh, lo sta Ma dai Ma porca ce l'ha Esprit di sto gran buco di culo Perfetto oro Mi sei notatissimo dai però Ma basta con ste vespe Non so che sono mie Ma cosa è successo? Ma torta le vespe Ma porca dove prende i due Mi ha preso lo star Ma dai Sono ultimissimo, non so Che schifo Sei dietro di me? Ma Team Fortress Team Fortress Team Fortress È successo una cosa strana Eh? Cosa? Ti è buggato tutto da me Cosa? Io sono con la nave sul terreno Ma E sono molto indietro Cioè mi ha sbattuto indietro di quel po' Ma Ma Vabbè Cosa sta succedendo? Sì è normale che dopo un po' Vado tutto a fuori Ma Ah Tio Fuco di culo Ah io ho sbattuto nella mano Porca schietro di merda Pocca troia Ma Ho visto il Iezer L'ho superato Ma cosa? Ma no Ma la sopra il Iezer Ma cosa cazzo? Eri tipo fermo In un In un punto E Boh Vedo i not Vedo i not Sì sì Guardami Sono veloce Sono veloce Sono veloce Sono veloce Ahia Ascia Ma no Sono giusto le notte adesso penso Ormai è finita Guarda vedo i strip di merda Ti puro Ti spacco la faccia Eswet Sei deficiente Ciao ragazzi è stato bello Eh finisce così Sono troppo forti Eh troppo forti Eh Ditarlo Senti Claudio Ma siete appena almeno arrivati voi Ma sono tornati Ma certo No dubito Io sono arrivato al terzo settimo Ho recuperato tre posizioni Ma come ce l'ho due? Eh se l'ho qua fermo Qualcuno è uscito dal canale perché ha Ha perso troppo E quindi Guarda che schifo Beh guardiamo il momento ero in otto Cinque secondi Non è che Che schifo Vabbè cinque secondi in un gioco d'auto è tantino eh Abbastanza Beh dipende se un gioco di carrozze Cinque secondi sono pochi Ok Non mi pare Desistriamo un gioco porno Ma cosa? Vocational Facciamo le grandi visual Eh no ce lo bloccano è deficiente Con i porni Che parle Su Youtube noioso e bigotto Dobbiamo mettere su Vimeo degli Emotion Eh sì sì Quellissimo Vimeo O su YouPorn se vogliamo Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ma vincono tutti tranne me Perso Fortunato al gioco fortunato al sesso Eh sì Eh no È proprio così È proprio così Ma ho sbattuto Eh non ho potuto male Permesso 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 Quanta gente quanta gente Allora io non voglio dire che sono già secondo Però lo sono Che sono dietro in otto Ah ok Ma io com'è che sono finito decimo non è possibile Eh l'ho spinto Ma no dai c'era un birbante lì No Aia No Ho beccato qualcuno dietro Mi sento la porca Porca voce Se non li levati mi spacco tu Avevo fatto una derapata a livello 16 Ah Eh sì Ma no Non c'è di che Eliezer Ma che fai Ma quanto c'era la strada andava bene Ma è vero Mi sento cadere molto rettivo Ma porca Ma sognò decimo Che palle Ma Come hai fatto a mancarmi Eh non lo so Fa da solo quale automatica Ma do il super turbo dell'amore Eeeh Troppo guarda troppo ditto Ma sei deficiente Mi spiccio con il turbore se mi son fermato Eh sì Coltaia Gli ero ora di Eliezer Ma dai per questo Ehm 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 Ma si muove sottronone Ehm 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 Vieni qua, Yezar! Vieni qua, Yezar! Dai, voglio il boost di livello 7, voglio! Non c'è, è fino al 3! Ma dai, ma io lo voglio! No! Bravo! No! Stavo per cadere anch'io! Vi riprendo, bisces! Mi sono fatto quattro giri, ragazzi! Ah, ma dai! Anche io me li son fatti! Ma... Mi sono andato anche indietro, non guardo! Ma che cavolo? Ma dai, sono qui! Hihihi! Ma perché Luke prende l'All Star? Porca miseria che sono ultimo, non mi dà niente! Ah, è efficiente! No, no, sono ultimo! Ok... Team Fortress! Team Fortress! No, mi hai preso! Ah! Ah! Due volte! Ho superato Roti, sono penultimo! Amici, mi ha mancato tantissimo! Vabbè, Moro, possiamo sempre vederci... In fondo! Al traguardo! Ti aspetto! Chi? Ma... Ah, ah, eh, eh, vabbè! Quante robe! Non dicevi! Ahia! Eh, devo difendere ma che vuoi! Tanto ti faccio il culo, Moro! Ma perché cado sempre in sta curva del cazzo? E' liscio! Mi son caccato! Eh, eh, eh! Basta! Eh, basta! Eh, no! Non basta! Sì, sì, il secondo cosa dici invece? Ahia! Porca vacca! Non so l'accelerazione, ho messo la mod performance! Ma le amici che mi chiamano Tigri del tetro! NONONONONONONONO! Yes! Yes! Ma che stronto è Speck! E che troia! Ma dai! No, Yuki ho sopporato alla fine! Ma come? E mi ha scoperto fino a metà se esplodigliò! Tutto sei finito? Basta Boroti merdato! Sto, adesso, no! Sto arrivando, sto arrivando! Sono arrivato! Che schifo, boti! Ma moro! Ma eri secondo? Ma.. 65 decimi. Questo è poco. 65 centesimi. Sorry. Non è buono. Non è capace. Non sa leggere i centesimi. Solo gli euri lui. Monegrabber. Io ho fatto sempre le scuole al primo piano. Puoi mettere il quacca anche a questa per favore. Io ho fatto le scuole al senso. Questo è stato bocciato.